Sarà operativo dal prossimo 1 ottobre negli ospedali di Patti, Milazzo e Taormina il servizio di gestione dell'accoglienza dei cittadini che accedono al pronto soccorso voluto dall'assessore regionale Ruggero Razza. Il servizio nasce dalla convenzione firmata ieri da Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e Croce Rossa Italiana. Il servizio partirà nei presidi che hanno più di 20.000 accessi all'anno e prevede l'impiego dei volontari nelle aree di emergenza. La convenzione firmata dal segretario regionale della Croce Rossa Giuseppe Giordano e dal direttore dell'ASP Paolo Lapaglia ha come obiettivo lo sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali e rientra negli interventi di programmazione per la gestione del sovraffollamento nelle aree di emergenza. Si punta a migliorare l'umanizzazione della presa in carico del paziente nel pieno rispetto della sua dignità, accogliere i familiari del paziente fornendo supporto alle persone più fragili, fornire nei tempi di attesa informazioni relative ai codici assegnati anche mediante l'uso di supporti cartacei o audiovisivi tradotti in più lingue, informare l'utenza ad un corretto utilizzo dei servizi sanitari, prestare assistenza ai codici rosa vittime di violenza di genere e ai minori che hanno subito violenze o maltrattamenti. Infine la convenzione si pone l'obiettivo di prestare privilegiata accoglienza nei tempi di attesa ai bambini o agli adolescenti, avendo cura dei bisogni specifici dell'età evolutiva. La convenzione tra Croce Rossa e ASP rappresenta un segno tangibile della volontà di miglioramento delle aree di emergenza, dove è importante assicurare il giusto supporto ai pazienti e ai loro familiari nei momenti di disagio.